Come ti chiami? Mi chiamo Ottman. Quanti anni hai? Ho 15 anni. Di dove sei Ottman? Sono dal Marocco. Con chi sei qui a San Nicandro? Con la mia famiglia. Da quanti anni siete qui? Da 5 anni. Quante persone ci sono nella tua famiglia? 5, io, mio padre, mia madre, mio sorello e mio fratello. Perché siete venuti in Italia? Per il motivo di lavoro. Qui papà lavora? Sì. Che lavoro fa? Vende i visiti nel mercato. Tuo padre è l'unico che lavora nella tua famiglia? La propria mia sorella è la mia madre. Hanno trovato lavoro subito? Tra qualche minuto. Quali difficoltà avete incontrato qui? La difficoltà della lingua. E poi ci abbiamo imparato nella scuola. E tu ora la parli bene, è la lingua? Sì. Che classe fai Ottman? La classe quanta è la mia. Hai degli amici? Sì. Li incontri spesso? Tutti i giorni. E ti trovi bene qui in Italia? Sì. Ti manca il Marocco? Sì. Che cosa ti manca del Marocco? Gli amici, gli cibi. Grazie Ottman.